Noi siamo qua a fare il soppero perché vogliono toccare il contratto nazionale, che il contratto nazionale per noi non si tocca, si migliora, vogliono tornare indietro a dare le cooperative il potere che hanno già il potere però si sfruttano di più. Abbiamo scioperato alla Dickelb, il soppero nazionale per difendere i nostri diritti perché abbiamo lì gli autisti che prendono 40-50 euro e lavorano sopra il caporale. Io non ho capito qua se lavoriamo in Italia o siamo alla Repubblica del Libanano. Non possiamo andare avanti, hanno rotto il curione perché dobbiamo andare avanti perché non puoi vivere con 40-50 euro al giorno. Come fai a vivere? 14 euro, io ho vita, noi abbiamo applicato il contratto collettivo nazionale, facciamo come in Francia, come in Svistra, lavoro 37 ore e mezzo a settimana e vengo pagato 40 ore, non 12 ore. La mattina la Dickelb per far applicare il contratto nazionale, che lì non esiste, che sono addirittura ai tempi dei paraoni. Abbiamo ottenuto, gli abbiamo strappato un comunicato, un accordo, accettano di comunque di aprire uno tavolo di trattativa la prossima settimana, il giorno 6 alle 5.30. È già un buon inizio, per noi è una vittoria. Non è il massimo ma è un inizio. Qui invece in TNT la situazione è diversa. Ci riconoscono ma non ci rispettano. A volte fanno così, cosa fanno? Cambiano l'appaltatore, subentrano un altro nuovo, non ti pagano il TFR, i tuoi diritti. O se no, quando c'è un collega che comunque, che non so, non gli va giù, usano questa tattica, cambia appalto, così loro hanno diritto di marciarti a casa. Cosa che è successo anche a me un anno e mezzo fa. Però l'unione fa la forza. Siamo qui dall'ASDA, dall'ADHL, alcuni colleghi da Brescia per sostenere i colleghi da TNT per questa causa qui. Nel sindacato funziona così. Tocchi uno, tocchi tutti. Oggi, in questa giornata che noi abbiamo proclamato di sciopero, siamo qui a portare anche come cementerie la solidarietà ai nostri colleghi della sede, anche perché il problema degli esuberi che riguarda 700-800 persone non è solo un problema della sede, ma un problema un po' in generale di tutte le cementerie. Oggi con questa iniziativa noi vogliamo tenere alta la tensione, perché è vero che l'altro giorno c'è stato l'incontro con i dirigenti di Heidelberg e il ministro dello sviluppo sostenibile. Però questo a noi non ci basta. Noi dobbiamo continuare su questa strada, chiediamo con forza di vedere il piano industriale, vogliamo sedersi al tavolo della trattativa con i nuovi dirigenti aziendali e questa iniziativa sarà una delle iniziative che porteremo avanti da qui fino a quando ci sarà la chiusura del closing.